La nazionale italiana donna ai mondiali di volley appunto in Giappone. Dopo la bella prestazione contro la Turchia, domani le ragazze di Mazzanti affronteranno la Cina. Le 12.20, uno scontro che deciderà il primo posto nel girone. Diretta su Rai Sport più HD, replica su Rai 2 a partire dalle 16.30. Marco Fantasia. Il primo vero test di questo mondiale va in archivio lasciandoci ottime sensazioni. L'Italia schianta la Turchia con una prova di insieme di altissimo livello e resta in testa al girone in attesa dello scontro finale con la Cina che definirà le gerarchie del gruppo e la classifica di partenza della seconda fase. Azzurra è sempre davanti, fatta eccezione per un breve passaggio a vuoto nel secondo set con quattro punti consecutivi delle turche, ma un ottimo cambio palla. I muri di Danesi e Crichella alle difese di Silla e De Gennaro hanno subito rimesso la partita in carreggiata. Obiettivo Cina adesso, diretta da Rai Sport alle 12.20 per provare ad arrivare a punteggio pieno alla seconda fase, portandoci dietro il massimo dei punti possibili. Shooting, l'asso cinese che gioca proprio in Turchia, non è l'unico pericolo. Cina molto presente anche al centro, con due giocatrici di alto livello e con la seconda schiacciatrice Li. Squadra in grado di battere bene, ma anche vulnerabile in ricezione, contro la quale ci vorrà pazienza. Una partita che ci consegnerà un quadro più chiaro sulle nostre potenzialità, in attesa di confrontarci nella seconda fase con Stati Uniti e Russia. Potrebbero bastare due vittorie contro terza e quarta classificata del gruppo C per passare alla terza fase. Sono Thailandia e Azerbaijan, ma adesso abbiamo fame e voglia di dimostrare al mondo che siamo davvero le migliori.